Sicuramente è stata un'esperienza fantastica sotto tutti i punti di vista perché è uno dei migliori tornei a livello giovanile e giocare contro squadre di livello internazionale è sempre molto bello e dal punto di vista umano anche perché abbiamo fatto più gruppo anche in vista delle prossime dell'Interzona. È stata sicuramente un'esperienza unica, infatti ringrazio la Reia di averci permesso di partecipare e oltre ad aver giocato con compagni di squadra come Federico che per noi più piccoli è uno da seguire e abbiamo potuto giocare contro squadre di altissimo livello, dei top club europei e confrontandoci con loro è stato sicuramente, rappresentava un punto di crescita sia individuale sia di squadra e ci ha permesso di farci un'idea su come sono i competitors europei. Sicuramente si vede anche essendo abituati a giocare contro club italiani e vedere giovanili di squadre di Eurolega ci vale subito un attimo nei primi possessi si capisce che c'è un'altra intensità ed è di un altro livello. Sicuramente è stata tutta quanto un'esperienza fantastica ma comunque abbiamo dimostrato di poter giocarcela con club europei infatti abbiamo perso solamente di 5 con l'Efes giocandoci tutta la partita e abbiamo vinto con Sarajevo mentre con Stella Rossa che era una squadra veramente molto forte che ha vinto poi il torneo i 40 punti non sono stati testimoni della reale differenza tra le due squadre. Io sono sicuro che la tripla di Pietro per la vittoria sia una cosa indimenticabile tre anni che ho vissuto con Pietro è un mio grande amico e vederlo sennare con la tripla è difficile da scordare. Anche per me vincere una partita allo scadere non si dimentica.